Inizio, 2, 1, inizio e ripetendo! Ho il bunker sotto, ho una barca di soldi, infatti sarebbe il caso di ricominciarlo, ma chi ne ha voglia perché è stata veramente lunga, ci ho impiegato decine di ore per arrivare fino a questo punto, ma con i miei 165 mila dollari voglio andare nella federazione dello sciroppo, dove vi ricorderete si vendeva lo sciroppo perché secondo me ci sono delle novità. Ora, non mi ricordo moltissimo, diciamo... beh, oddio, mi ricordo abbastanza invece riguardo al gioco, non mi ricordo esattamente cosa facevo giorno dopo giorno, ma in pratica si costruiva il... e si produceva, scusate, lo sciroppo d'acero. Ora andiamo perché secondo me ci sono delle novità succose, sono state aggiunte nuove parti dell'auto, sono state aggiunte nuovi macchinari, è stata aggiunta anche una console portatile che trovate a casa e potete mettere in carica e potete usare per giochicchiare un pochino e salvare la partita, ma quello magari lo vediamo dopo. Ora, dovrebbe esserci alla federazione dello sciroppo d'acero una cisterna da mettere al camion. Ora, io non ho... mamma mia, l'ho rischiata grossissima qui. Cosa che non è stata aggiunta invece, devo dire, che è stata la presenza dell'omino alla guida, cosa che mi dispiace un pochino perché fa perdere un po' di realismo. Allora, intanto sono stati rifatti completamente i menu, come vedete, sono completamente diversi. Adesso è tutto tradotto ed è in tono molto scanzonato anche per quanto riguarda oltre i menu i suggerimenti, perché ci sono veramente dei commenti fuori di testa, dei consigli fuori di testa. E inoltre, quando voi subite magari qualche incidente in auto, diciamo che l'insulto che ricevete vi viene sottotitolato come insulto in franco-canadese. Adesso vediamo se riesco a farlo vedere. Eccolo qui. Va bene, vediamo se mi ricordo tutto, perché non avevo completato proprio il gioco al 100%, però insomma avevo raggiunto un'ottima stabilità economica. Non sono state ancora aggiunte le... Le staccionate, quelle che vedete lì dietro. E tra l'altro qua davanti non ci sono più i carretti. Non so se siano stati eliminati totalmente, non siano più acquistabili, però la cosa interessante la andiamo a vedere. Adesso, perché arriviamo, adesso proprio che apre l'edificio della Federazione del Sciroppo, vediamo, qua c'è qualcosa. Aspettate un secondo, eh. Che magari mi segno questo numero. Perché magari lo chiamiamo, lo scopriamo insieme, vediamo che cosa è. Mi segno il numero, perché credo che dentro non ci sia niente. Adesso sto perdendo tempo, ma... No, magari solo un trollaggio, ma non c'era questo prima. Comunque, continuiamo il nostro giro, perché dobbiamo arrivare giusto giusto qua dietro e vedere che cosa riusciamo a fare. Magari un edificio acquistabile, chi lo sa. Qua dove si depositava il... Lo sciroppo d'acero e si poteva andare poi a riprendere il giorno dopo. Qua dentro, vediamo subito, c'è qualcosa di nuovo, perché questo, osservato lo sciroppo d'acero, migliora, costa 10.000, lo compro. Un tecnico che ho passato a casa tua è perfetto. Questo invece è combo cisterna e la cassone pompa esterna. Puoi fare il retro mancio dentro il garage, il retro palco è con la cisterna. Lo compro. E dove lo metto? Lo metto qua sopra. Eccolo lì, carino. Posso comprarne due? No, già installato. Questo ce l'abbiamo già. Questo ce l'abbiamo già. Sì. E direi che abbiamo comprato tutto quello che potremmo comprare, perché questa roba qui ce l'abbiamo già. È tutta roba che non è, diciamo, piazzabile liberamente. Ah, qua dentro si mette l'alltruck con la cisterna per vendere. Ah, ok, interessante. Questo migliora, migliora tantissimo il nostro. Anche se in realtà ci siamo buttati in ben altro business. Infatti non è più così redditizio come si pensava prima. Dice il garage, ma secondo me non si può entrare lì. Non si apre. Secondo me non c'è dentro neanche niente. Però proviamo un'altra casa a telefonare al 555 7623. Chiamiamo subito. Intanto diamo un'occhiata in giro. Probabilmente i nuovi pezzi sono stati aggiunti nel mercatino del tuning del giovedì. Però devo dire che nonostante siano più di sei mesi da agosto che non ci gioco, i luoghi me ne ricordo abbastanza, hanno spostato la pompa. Ma è diversa la pompa di benzina. Sì, non è quella di prima. Mi piace, mi piace perché sono giochi che comunque vengono continuamente aggiornati, vengono aggiunte nuove cose, ma che ahimè fin quando non viene cambiato magari un sistema di progressione, viene reso magari un pochino più difficile. A parte che non è stata proprio una passeggiata, mi ha dato soddisfazione, ma non ha senso ricominciare. L'unico modo per invogliarmi a ricominciare sarebbe rendere incompatibili i save game e farlo diventare magari più intrigante nella sua progressione, per quanto fosse già tremendamente intrigante come gioco. e magari mi aggiungono anche una casetta nuova, ma ormai vedete che con i soldi che ho non ho grossi problemi. Avendo 165.000, avevo 167.000, ne avevo spesi 20.000 quasi, 22.000 senza batter ciglio, mentre prima 20.000 erano tantissimi e dovevo proprio vendere, ricordarmi ogni settimana di vendere lo sciroppo d'acero. Comunque, all'inizio, poi la gavetta facendo, ho fatto un tutorial, tra l'altro ho visto anche da YouTube, grande onore per me, di tagliare la linea per il nostro fratello, farci amica a nostra amica, far salire la relazione con la madre, perché così potremmo prendere la friggetrice. Altra figata fotonica, guardate qua, c'è il remote per aprire e chiudere. Vedete che adesso io premo? Tecnicamente si chiude. Che non serve, cioè, no, diciamo che è carino. Ma porca me, ho perso la tanica. Ah, ma probabilmente non era fissata. Eh, vabbè. Chissà dove l'ho persa, adesso andiamo a cercarla. Comunque, questo qua è il, come l'avevamo lasciato, esattamente come l'avevamo lasciato. E vi faccio vedere la console da gioco. Qua potete prenderla, vedete, adesso è in carica. Eh, no, la motosega la lasciamo lì dove è. Prendo questo, tab, e ci giochiamo. E possiamo giocare, salvare il gioco o giocare. Giochiando questo, ci sono vari livelli. Credo sia una sorta di Vampire Survivor, una roba del genere. Level up. Sì, vabbè, ecco. Con esca usciamo. Vedete che qua in alto ci sono le lineette verdi della batteria. Posso con tab toglierla e rimetterla in carica. Qua c'è il solito computer. E no, volevo andare a vedere dove ho perso la tanica. Sempre che non l'ho persa proprio per l'inizio inizio. Adesso ci risentiamo tra pochissimo quando l'ho ritrovata. Magari uso la visuale esterna così la trovo. A dopo. Ok, in sintesi l'avevo persa subito. Ma subito! Cioè, senza neanche... Aspettate che mangio questo. Mi bevo uno sciroppino. E niente, la ricarichiamo. Anche perché... E vedete che me la piazza lì, ma voglio capire adesso se tolgo il farino a mano se la perdo o meno. Me l'ha fatta fissare. Quindi tecnicamente non dovrebbe perdersi. Comunque. Torniamo indietro e vediamo il sistema di... di boocco. E proviamo a chiamare col numero. E vediamo se è stato tradotto anche la telefonata. Ok. Prima di andare... Adesso la tannica c'è. E secondo me... Secondo me va anche fissata. Quindi apriamo Garage. E andiamo dentro. E secondo me la possiamo anche fissare con... Le viti. Adesso entro qui. Mi fermo. E proviamo a fissare le viti. Quindi prendo la chiave inglese. Prendo la vite. Vediamo se si può fissare. Perché ho visto degli attacchi... Sospetti. Vediamo un po'. Allora... No. No. Quella da 20 no. Vediamo se possiamo usare l'altra. Quella più piccolina. No. Non possiamo fissarla. Va bene. Niente. È già fissata lì su. Allora. Va bene. Non la possiamo fissare. Adesso proviamo a chiamare quel numero che avevamo detto prima. 555. Adesso lo recupero. E vediamo. Allora. Vediamo perché non me lo scrivono da nessuna parte. E vediamo se lo recuperiamo. Allora. Cosa viene detto? 555. 57623. Quindi. Eh sì. Troppo lontano. Va là. Dai. 555. 7. 6. 2. 3. Vediamo. Non so se l'ho digitato giusto. Ah. Asfalta la strada di casa. 115.000. Asfalta la strada di fences con il suo aiuto. Asfalta il parcheggio di casa. Premi uno. 115.000. L'asfalto. Ok. Ok. Hanno asfaltato la strada. Fantastico. Adesso. 555. 7. 6. 2. 3. Bellissima. Vediamo cosa altro possiamo fare. Non possiamo fare quello. Asfalta il parcheggio di casa. 3. Perfetto. Fantastico. La strada è stata a spese nostre. È stata tutta asfaltata. Completamente. Quindi. Rimane solo una cosa da fare. Andare a provare a riempire. E vedere come funziona quest'ultima cosa. Bellissimo. 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 Davvero. Però ecco. C'è sempre quel discorso che ormai io avendo i soldi riesco a fare praticamente tutto. Starevando anche la nebbia. Però adesso non sembra più neanche la casa questa. Sì. Oddio. Servirebbe la strada di Frensis. Non capisco perché devo asfaltargliela io. Probabilmente sì. Dobbiamo ancora consegnare legna. Ma... Vabbè. Intanto. Vediamo un attimo. Probabilmente mi manca qualcosa per riempire la tanica. Adesso. Io intanto. Spengo l'auto. Andiamo a vedere. Perché? Ok. No. Dall'altra parte. Dovrebbe essere dietro. Infatti. Questa. Questo è un grande game changer. Perché. Dovremmo aver potenziato. Lo sciroppo d'acero. E quindi qua chiudiamo. E quindi possiamo andare. A riempire. La tanica dietro. E questo è un gran bel game changer. Per quanto. Purtroppo. Secondo me. All'inizio sarà abbastanza infattibile. Perché. I soldi. Richiesti. Sono veramente tanti. E una volta che li farete. Non avete più bisogno di. Ok. Bellissimo. Si aggancia da sola. Adesso. Aspettiamo che. Metto questo. Mi bevo. Ok. Adesso non la son bevuta. Non come prima. Pensavo. Si. Si sta riempiendo. 1200 litri. Calcolando che. Sono 10 barili. Praticamente. Quindi potrei riempire. Dei barili. Il carretto di barili. E portare anche questo. Ok. Abbiamo fatto ormai. Vediamo quanto c'è dentro. 480. Dobbiamo lasciarlo qua un bel momento. Anche qualche giorno. Si è anche staccato. Ok. Così. Mi chiedo solo se. Ah. Magari adesso riusciamo a fissarlo bene con i bulloni. Comunque non escludo che si possa appunto fissare. Perché tante cose si fissano su. Sto gioco. Quindi. Magari ci sarà la possibilità. Intanto io spengo l'auto. Direi che posso ritenermi soddisfatto di queste nuove aggiunte che hanno fatto a Mombazoo. Ci ho speso davvero tantissime ore. Per la precisione 74. Praticamente in un'unica partita. A parte le prime prove che ho fatto sul gioco. Ma 74 ore che sono state ore ben spese. Che valgono completamente il costo di questo titolo. E tra l'altro anche tradotto in italiano per i più puntidiosi. Il gioco attualmente è a 17,76 euro. Acquisto obbligato. Calcolando che. 70 ore per 15 euro. Cavoli. A voglia. Ragazzi fatemi sapere che cosa ne pensate di questo aggiornamento. Dopo più di 6 mesi su Mombazoo. E alla prossima. Ciao ciao.